Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, una trasmissione che approfondisce i fatti che riguardano la nostra isola ma non soltanto e cerca di ragionare anche sul suo futuro e proprio su questo ci interroghiamo oggi, quale è il futuro per lo sviluppo della Sicilia, questo ciclo di appuntamenti di Talk Sicilia che stiamo affrontando con tutte le parti interessate a partire dalle parti sociali. Il nostro ospite oggi è Alfio Manino, segretario generale della CGL Sicilia che ringraziamo per essere oggi qui con noi. Grazie a voi per il genio di l'invito. Adesso proprio con lui vogliamo tentare di rispondere a questa domanda che certamente non è semplice, allora partiamo proprio da qui, quale è il futuro per lo sviluppo della Sicilia, cosa, qual è la strada che bisogna intraprendere per spingere verso la ripresa? Innanzitutto la Sicilia ha bisogno di un nuovo piano per il lavoro, un nuovo piano del lavoro che dal nostro punto di vista deve partire da tre elementi fondamentali. Innanzitutto noi abbiamo la necessità di rilanciare il nostro parato agroalimentare, noi abbiamo una regione che è la sesta regione d'Italia per produzione agricola ma siamo alla dodicesima per lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Questo scarto la dice lunga, tra quanto valore aggiunto noi perdiamo nei nostri prodotti agricoli, così come noi dobbiamo puntare a una nuova e diversa politica del turismo. Anche qui noi abbiamo 15 milioni di presenze turistiche l'anno ma di queste il 90% si focalizzano soltanto nei mesi di luglio ed agosto e questo stride con il fatto che noi abbiamo una regione che ha un immenso patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e quindi dovremmo davvero puntare sulla destagionalizzazione della nostra offerta turistica. E poi una grande regione, quasi 5 milioni di abitanti, non può non avere un proprio apparato industriale. E avere un proprio apparato industriale significa avere un'industria che sia più coerente con le nostre vocazioni e quindi significa provare a rilanciare, a rideterminare anche una politica di transizione, di superamento di quelli che sono i nostri poli industriali oggi basati esclusivamente sulla raffinazione. Però per fare questa giusta transizione abbiamo bisogno di una nuova e una diversa politica energetica nella nostra regione. E lo dico subito senza polemiche con chi oggi dal governo nazionale pensa che la Sicilia debba essere un hub energetico ma soltanto facendo passare dei tubi che dall'Algeria passano dalla Sicilia per poi portare chissà dove le energie in quelle altre parti del mondo. Quando noi diciamo Sicilia hub energetico significa che la Sicilia deve essere una regione in cui si produca l'energia e produrre energia significa puntare sulle fonti di energia rinnovabile. Noi siamo la prima regione d'Italia a povertà energetica ma siamo la regione che potenzialmente può produrre il 30% del fabbisogno energetico del paese e quindi significa nuova politica energetica e poi servono a puntare su due grandi infrastrutturazioni sociali. La prima, istruzione e formazione. Io voglio ricordare che noi abbiamo una carenza in termini di tempo pieno, voglio ricordare che il nostro sistema formativo è completamente destrutturato e poi dobbiamo immaginare anche una politica sociale diversa, una politica sanitaria diversa rispetto a quella che abbiamo oggi. Oggi il diritto alla salute in Sicilia è completamente negato e io credo che questa è un'ulteriore infrastrutturazione sociale su cui noi dovremmo puntare. Per fare tutto questo serve un piano per il lavoro, serve una politica che sia consapevole di come dare una risposta in termini del rilancio economico e sociale perché quello che più ci preoccupa in questa fase, in questa stagione non è la crisi in sé, è che oggi non vi è una classe dirigente che ha la consapevolezza della profondità della crisi che investa la nostra regione. E allora, guardiamo questi elementi, abbiamo messo sul tavolo tre punti fondamentali e due punti fra virgolette secondari, perché poi secondari non sono, soprattutto quando si parla di sanità certamente secondari non è. Guardiamo un attimo, parliamo di politica energetica, come si sposa l'idea di questa politica energetica green, di transizione con quello che è stato fatto nelle ultime settimane, ad esempio su Luke Oil? Ma innanzitutto… Perché c'è un doppio binario, diciamo così, da una parte c'è il lavoro da salvaguardare, però quella è sempre raffinazione. Sì, assolutamente. Il tema è che intanto su tutta la vicenda Luke Oil noi ancora non abbiamo parole chiare e nette da parte del governo nazionale. Noi sappiamo che lì c'è un tentativo di acquisizione di quell'impianto da parte di un fondo cipriota, sembra che ci siano dentro anche fondi russi e noi non sappiamo quindi qual è la caratteristica di chi vuole acquistare, diciamo, quell'impianto. La cosa che ci preoccupa è che ci sia solo ed esclusivamente una speculazione di natura finanziaria. E ancora il governo non ci ha detto invece cosa ci sta dietro questa vendita, chi sono i soggetti, qual è il loro piano industriale e cosa vogliono fare, diciamo, di quell'apparato produttivo. Ma a proposito di Luke Oil noi lo diciamo con grande nettezza. Questo modello produttivo, questo modello industriale comunque è destinato a essere superato dai fatti e dalla storia. Tutti voi o noi abbiamo letto qualche giorno fa la direttiva comunitaria che dice che da qui al 2035 non bisogna più produrre macchine a carburante, a combustione interna. Quindi questo cosa significa? Che comunque l'utilizzo del benzina, del petrolio e del diesel verrà assolutamente superato. Quindi quando noi parliamo di transizione energetica, quando noi pensiamo di una riconversione del nostro apparato produttivo, significa immaginare che quei luoghi produttivi possono essere oggi riconvertiti, riconvertiti per la produzione di energie alternative. Pensiamo a un apparato industriale che punti, come dicevo, non soltanto a, penso a tutta la filiera delle politiche energetiche da fondi rinnovabili, noi non pensiamo e non immaginiamo soltanto come e dove installiamo i pannelli solari o i pali eolici. Noi diciamo che noi dobbiamo produrre qui tutto quello che serve per produrre energie alternative. Credo che sotto questo profilo l'investimento che sarà fatto a Catania, da Enel Green Power, che in Sicilia si possa essere l'impianto industriale più importante d'Europa per la produzione di pannelli fotovoltaici, sia un fatto importante e significativo e noi riteniamo che quello sia il modello di seguire. Un'industria innovativa, un'industria green, un'industria ad alta innovazione e io credo un'industria che sia coerente con la nostra vocazione territoriale. E che si sposa di conseguenza anche con lo turismo, che era un altro dei punti. Si parla di destagionalizzazione, ne sentiamo parlare da anni, ma rispetto a dieci anni fa qualcosa è stato fatto, almeno girando per le nostre città, anche in periodi invernali come questo, vediamo dei turisti stranieri, o no? Sì, però il tema è che noi siamo di fronte a un turismo spesso mordi e fuggi, che non ha una sua strutturalità. Ripeto, ci sono i dati che parlano. Noi oggi abbiamo il Veneto che fa quasi 45 milioni di presenze turistiche l'anno, la Sicilia fa 15 milioni di presenze turistiche, lo scarto è troppo ampio. La Sicilia ha un patrimonio, come dicevo prima, storico, artistico, paesaggistico, culturale immenso. Il punto è come noi tutto questo lo mettiamo a valore, qual è l'offerta turistica integrata che noi diamo anche alle persone che vengono dagli Stati Uniti piuttosto che dal Giappone. Io vorrei soltanto ricordarvi una cosa, se oggi un turista viene in Sicilia e vuole visitare Taormina e la Valle dei Tempi, stiamo parlando dei due dei posti più importanti che noi abbiamo, patrimonio dell'UNESCO, grande visibilità, parole più cliccate nei social network per individuare un territorio e però o lo fanno attraverso una gestione fai da te, quindi affittandosi la macchina, muovendosi con la macchina, oppure difficilmente con in autobus e in treno tu puoi collegare Taormina ad Agrigento oppure un pacchetto turistico che prevede il mare straordinario degli Iblei collegato all'Etna che è un altro patrimonio dell'UNESCO. Noi non abbiamo un'industria turistica, non abbiamo soprattutto un collegamento tra il nostro patrimonio turistico e la nostra produzione culturale, penso ai teatri, ai musei. Oggi manca un sistema integrato, c'è uno spezzettamento dell'offerta turistica che non fa bene e questo allontana spesso il fatto che noi possiamo avere un turismo strutturato, come dicevo spesso noi abbiamo un turismo fai da te e questo naturalmente non è quello che noi meritiamo visto il nostro patrimonio. L'altro tema toccato poc'anzi in introduzione era quello della sanità, diceva c'è un diritto alla sanità negato oggi in Sicilia, eppure negli ultimi anni complice il Covid e tutti gli investimenti che sono arrivati e guardando all'immediato futuro ci sono i soldi del PNRR dovrebbe cambiare tanto. Poi un altro aspetto, quello dei medici, troppo spesso ci troviamo a non avere i medici a non poterli reperire neanche per coprire i turni necessari, cioè mancano i medici in tutta Italia. Innanzitutto come tutti noi sappiamo c'è un effetto diretto tra diritto alla salute e benessere economico, quindi io credo che già questo solo elemento ci fa dire che noi sul diritto alla salute dobbiamo investire davvero e dobbiamo investire tanto. Noi abbiamo un tessuto sanitario oggi del tutto inadeguato perché innanzitutto non abbiamo una medicina del territorio adeguata, abbiamo un sistema sanitario spesso basato su un sistema ospedale centrico con tutte le difficoltà e con tutte le inadeguatezze che questo determina. C'è un diritto alla salute che varia anche all'interno della nostra stessa ragione, una cosa è quello che può avvenire in un'area interna, penso alle petralie piuttosto che nelle aree interne dei Nebrodi e quello che invece può accadere nelle grandi città metropolitane. E quindi intanto noi abbiamo la necessità di ridefinire una rete ospedaliera e soprattutto di ridefinire una medicina del territorio, cosa che dicevo è del tutto destrutturata. La pandemia non ha fatto altro che aggravare una condizione già fragile e naturalmente questo si lega anche e soprattutto con il fatto che noi abbiamo una carenza di personale. Già oggi, indipendentemente dagli interventi che verranno determinati col PNRR, poi ci ritornerò, ma già oggi noi abbiamo voti inorganici per quanto riguarda personale sanitario di 17.704 unità e questo naturalmente determina una fragilità delle risposte in termini sanitari per i cittadini e le cittadine siciliane. Però ci sono naturalmente il fatto che noi abbiamo difficoltà nel reperire medici e lì noi diciamo basta il numero chiuso in medicina, basta il fatto che ci sia un tappo nel specializzazioni e però va anche detto che noi abbiamo anche la difficoltà di reperire medici perché tu sei un giovane siciliano che in questo momento sta lavorando in Brianza piuttosto che a Modena, difficilmente lo fai venire in Sicilia se gli offri un contratto a tempo determinato perché oggi la regione negli ultimi due anni gli unici contratti che ha offerto ai suoi giovani è stato quello venite qui che vi facciamo un contratto co-co-co o un contratto a tempo determinato a sei mesi piuttosto che a un anno. Ed è chiaro che tu o oggi fai un rafforzamento della nostra macchina sanitaria con assunzione a tempo indeterminato e quindi determina anche la condizione affinché coloro i quali erano andati via da questa terra possono venire qui e avere un futuro sereno da un punto di vista lavorativo oppure difficilmente chi ha trovato un posto di lavoro come infermiere piuttosto che come un medico nelle altre regioni del nord difficilmente ritornano in Sicilia e quindi noi abbiamo la necessità intanto di fare le assunzioni nel sistema sanitario. E poi sul tema del PNRR, qui c'è l'altro elemento che si coniuga con il fatto delle assunzioni perché il PNRR purtroppo mette a disposizione le risorse per fare gli ospedali di comunità piuttosto che le case della salute ma se poi non hai il personale per far sì che quegli luoghi siano luoghi fruiti davvero da parte dei cittadini o delle cittadine difficilmente danno una risposta appunto alla carenza che noi oggi abbiamo e la nostra preoccupazione è che noi oggi con soldi pubblici mettiamo in campo strutture sanitarie e che poi però il dividendo inutile di quel investimento pubblico lo facciano probabilmente i privati che magari saranno chiamati poi a gestire quelle strutture sanitarie. Io credo che tutto questo sia davvero inaccettabile però come dicevo c'è una grande differenza, una grande discresia tra l'offerta sanitaria nei grandi centri urbani e nelle aree periferiche e quindi l'altro grande tema che noi abbiamo di fronte è che risposta diamo alle aree interne perché in termini di servizi, in termini di diritto alla mobilità, in termini di diritto all'istruzione, in termini come dicevo prima diritto a sanità noi abbiamo aree interne che sono del tutto lasciati e abbandonati a se stesso e io credo che oggi l'altra grande emergenza che la Sicilia ha che risposta dà alle aree interne, alle aree più marginali di questa nostra regione. E da questo punto di vista però ci sono degli strumenti che sono stati messi in campo, ad esempio ci sono le ZES e adesso si parla anche di zone franche montane, due cose fra di loro un po' diverse naturalmente perché le ZES e le zone economiche speciali non incidono necessariamente sulle aree interne tutt'altro mentre la zona franche montane sarebbe un intervento proprio su aree montane, interne e così via dicendo. Ma guardi, prima delle zone franche montane su cui ancora comunque c'è un percorso in atto già c'era uno strumento importante che sono quelle delle SNAI, della strategia nazionale delle aree interne, che furono ideate da uno dei più bravi ministri alla coesione che questo paese abbiamo mai conosciuto che è Fabrizio Barca, sono state messe risorse importanti, sono state date delle linee guida importanti, in Sicilia già sono state individuate 5 SNAI ma nessuno di questi 5 ha visto l'utilizzo delle risorse che lì sono state impegnate. Quindi questo dice anche lo scarto tra spesso il fatto che noi abbiamo difficoltà nella programmazione e nella progettazione degli interventi e questo naturalmente fa il paio con il fatto che noi abbiamo una pubblica amministrazione che non è in grado oggi di assolvere appiena il proprio compito. Tra l'altro uno dei presupposti per lo sviluppo di questa nostra terra è quello di rigenerare la nostra pubblica amministrazione. Noi oggi abbiamo voti in organico per 30.000 unità, questo significherebbe non soltanto avere una macchina amministrativa più forte, più solida, in grado di progettare, programmare, drenare risorse europee, ma avremo anche la possibilità di dare una risposta occupazionale a 30.000 ragazzi e ragazze che potrebbero davvero rappresentare una nervatura nuova, vitale, più dinamica appunto nella nostra pubblica amministrazione. Quindi io credo che la rigenerazione della pubblica amministrazione è l'altro presupposto per lo sviluppo di questa nostra regione. E così torniamo anche a quello che era il primo punto che avevamo messo in campo, che è quello del grande piano per l'occupazione, un grande piano per l'occupazione che certamente a questo punto dovrebbe partire dalle assunzioni pubbliche, ma non soltanto. Suppongo che voi abbiate un'idea da portare a un eventuale tavolo con il governo. Ma assolutamente sì, come dicevo, politiche industriali, politiche agricole, anche qui noi abbiamo il PSR più importante d'Europa, 2 miliardi e mezzo di euro per rilanciare il nostro apparato. PSR lo diciamo perché ci ascolta il piano di sviluppo regionale, i fondi comunitari in buona sostanza. Abbiamo risorse per sviluppare appunto l'agricoltura siciliana, ma anche qui significa accorciare la filiera, chiudere la filiera, non occupare soltanto della produzione, ma anche della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, aggregare l'offerta. Cioè noi abbiamo uno spazio enorme per rilanciare il nostro sistema agricolo. Quindi noi abbiamo idee, progetti, programmi, il problema è chi li realizza, se c'è una politica attenta a fare tutto questo. E guardate, questo si innesta con l'altra grande preoccupazione che noi abbiamo in queste ore e in queste settimane, che è il tema dell'autonomia differenziata. Un tema dal nostro punto di vista sottaciuto e probabilmente colpevolmente il governo di questa regione non affronta con la giusta determinazione, perché qui non si tratta di avere a che fare con governi amici o nevici. Noi riteniamo che su tema dell'autonomia differenziata si rischia di giocare il futuro della nostra terra. Voglio citare due esempi. La prima, noi abbiamo una spesa pro capite pubblica per ogni cittadino siciliano che in media è il 30% in meno rispetto a quello di un cittadino lombardo. Il secondo elemento, non il centro studi della CGL o organi che in qualche modo possono essere anche tacciati di strumentalità, ma la ragioneria dello Stato. Quando nel 2018 il governo Gentiloni siglò le preintese con Veneto, Lombardia ed Emilia e Romagna, lì in quell'occasione sulla base delle nuove competenze che andavano a quelle regioni fu calcolato che c'era un trasferimento di risorse dal Stato centrale a quelle regioni pari a 21 miliardi di euro. Siccome il decreto Calderoli di questi giorni dice che comunque la nuova riarticolazione di funzioni e competenze, quindi le famose 23 competenze che dovrebbero andare alle regioni, deve venire a costo zero. Se ci sono regioni, in questo caso Veneto, Emilia e Lombardia, che ci guadagnano 21 miliardi di euro, qualcun altro quelle somme comunque li deve cedere. E a cedere saranno le regioni più deboli a partire dalla Sicilia. Quelle stesse regioni che hanno oggi la necessità invece di avere i giusti investimenti per rilanciare il proprio apparato produttivo, per avere la giusta infrastrutturazione materiale e immateriale. Quindi io credo che una delle questioni che deve investire la politica e la società siciliana nel suo complesso e come noi diciamo no e contrastiamo il progetto dell'autonomia differenziata. Altro grande tema è quello delle infrastrutture, l'abbiamo accennato più di una volta. Certamente la Sicilia ha grandi problemi infrastrutturali. Di recente il rapporto pendolaria di Lega Ambiente ci ha messo di fronte a una realtà. I treni, parliamo soltanto dei treni, non di altro, in Sicilia sono un terzo di quelli della Lombardia a fronte di una differenza di popolazione che invece è della metà. Questo è uno dei temi, ma allora cosa fare? Dobbiamo puntare sulla gomma e quindi sulle strade, l'autostrada, dobbiamo puntare sul ferro, bisogna fare o non fare il ponte sullo stretto? Innanzitutto noi dovremmo puntare su un sistema di mobilità integrato. Dentro questo scenario io ritengo che innanzitutto noi dobbiamo fare una grande battaglia affinché tutte le risorse che erano a disposizione della Sicilia, penso dall'accordo di programma quadro con RFI o ANAS, di quei progetti che poi sono stati messi dentro il PNRR e quindi quelle risorse in qualche modo oggi i progetti del PNRR non sono aggiuntivi, ma sono sostitutivi di piani di finanziamento che già la Sicilia aveva acquisito in sé affinché quelle risorse ci vengono restituiti sotto altra progettazione e quindi questo è uno dei grandi temi, perché l'altro elemento che noi dobbiamo dirci è che il PNRR rischia di essere una grande occasione mancata. Detto questo e quindi noi abbiamo bisogno di un sistema di infrastrutturazione integrata, io la dico anche qua molto banalmente, io prima di andandarmi ponte sì, ponte no, non voglio fare una discussione di natura ideologica, io però so che noi oggi abbiamo a disposizione risorse importanti e queste risorse vanno spese per ammodernare il nostro sistema infrastrutturale, allora io dico se questo è vero, ed è vero, e siccome oggi è vero perché ce lo dicono gli studi, ci dicono le grandi compagnie di progettazione, che noi oggi possiamo infrastrutturare l'area dello stretto in maniera tale che si possa consentire all'attraversamento stabile dello stretto abbattendo i tempi di percorrenza di oltre il 50% innanzitutto dei treni e consentendo anche ai treni super veloci a freccia rossa per intenderci di attraversare lo stretto con queste navi ultramoderne che senza spezzettare il treno ci possono consentirlo di farlo attraversare e di abbattere, come dicevo, del 50% dei tempi di percorrenza, intanto infrastrutturiamo l'area dello stretto, consentiamo alla Sicilia e Sicilia di poter arrivare nel resto del paese in tempi estremamente aicelli, poi nel frattempo questo dibattito stucchevole, se il ponde lo dobbiamo fare o non lo dobbiamo fare, lo si faccia con grande tranquillità e soprattutto senza pregiudiziai alcuno, però intanto proviamo a rivendicare quello che oggi si può realizzare in tempi immediati, stretti, perché la Sicilia ha fame di infrastrutture, la Sicilia ha fame di mobilità, la Sicilia ha fame di aver affermato il diritto pieno della cittadinanza, che oggi questo non è riconosciuto. Il tempo è praticamente finito in una battuta velocissima, cosa chiedete, se resta da chiedere una sola cosa, la prima cosa è che chiedete al governo e alla regione proprio in 10 secondi? Puntare su consentire ai ragazzi e alla ragazza siciliana di costruire qui il loro futuro e di coltivare qui i propri sogni, il fatto che ogni anno 20.000 ragazzi e ragazze abbandonano la Sicilia è uno dei grandi drammi di questa terra, è una delle questioni su cui noi dobbiamo dare immediate risposte. Grazie a Raffio Mannino, segretario generale della CGL per essere stato con noi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e appuntamento al prossimo Talk Sicilia. Grazie a Raffio Mannino, segretario generale della CGL per essere stato con noi, grazie a tutti